La Asian Infrastructure Investment Bank è una banca multilaterale di sviluppo con sede a Pechino. L'idea di una banca multilaterale a trazione cinese fu annunciata dal presidente Xi Jinping nel corso di una visita di Stato in Indonesia nell'ottobre del 2013. La AIIB è un'istituzione finanziaria internazionale al pari del Fondo Monetario, la Banca Mondiale e la Banca Asiatica di Sviluppo, concede prestiti principalmente alle economie emergenti dell'Asia per la realizzazione di opere infrastrutturali. La AIIB ha iniziato la propria attività nel gennaio 2016 con 57 paesi membri, tra i quali Cina, Germania, Regno Unito e Italia. E la AIIB conta oggi 100 paesi membri, di cui 74 effettivi e 26 in corso di ratifica. Una assenza significativa è quella degli Stati Uniti e Giappone che, sebbene invitati a partecipare, hanno scelto di non aderire. Ad oggi la banca ha approvato finanziamenti per oltre 9 miliardi di dollari per la realizzazione di 47 progetti in 15 paesi, quasi tutti asiatici. I progetti riguardano i settori dell'energia, dei trasporti, dell'acqua, telecomunicazioni e infrastrutture rurali. La banca conta circa 200 dipendenti, tra i quali figurano tre funzionari italiani. Per maggiori informazioni sulla Asian Infrastructure Investment Bank potete rivolgervi ai seguenti punti di contatto. Vi invitiamo inoltre a consultare la guida pratica dell'agenzia ICE Lavorare con la AIIB, Guida pratica per imprese e consulenti. La guida è disponibile in formato PDF ed è scaricabile gratuitamente dal link in basso o direttamente dalla newsletter.